Quello che è il percorso che viene fatto, appunto, non è una valutazione attraverso posizioni, ma argomentazioni, noi quello che vogliamo valorizzare in questo caso sono gli argomenti, le motivazioni che stanno alla base delle posizioni, perché se dovessimo fare un dibattito sulle posizioni, non ne usciremmo più, saremmo due posizioni, io la mia, tu la tua, e poi alla fine o è la mia o la tua, sono due posizioni, non c'è la possibilità di capire insieme dove possiamo andare. Se invece cerchiamo di capire quali sono le argomentazioni e le motivazioni alla base della mia posizione e le argomentazioni e le motivazioni alla base della tua posizione, insieme le argomentazioni e le motivazioni magari scopriamo che sono identiche, uguali, allora è più facile trovare in qualche modo un percorso unitario avendo insieme condiviso le motivazioni. Gli obiettivi. Questo è lo scopo. Lo scopo di questi stati generali non è quello di dividere, non è quello di dire chi sta con chi o chi sta con cosa o chi vuol far cosa e chi vuol fare qualcos'altro. No, lo scopo di questi stati generali è quello che mi sono previstato e cercare di fare un percorso il più possibile unitario, un percorso in cui tutti ci si possa ritrovare.